Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Che sta... sempre è stato uno stato e quello stato non lo sarà più. Ti vuoi sapere che è accaduto? È accaduto, non è accaduto, non è accaduto, nessuno è accaduto. No, 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 no! Ti vuoi sapere che è successo, eh? È successo. Ah, è successo. E quello che è successo, stanno tutti successo. Voglio sapere come fai non hai buttato il caffè al nostro padrone. Eh, e che ce l'ha appuntato fatta. Non ho fatto. Con pazienza. E dimmi. Io non lo sai che mi ha fatto una sembrisciata con l'uomo più importante del suo paese. Una schienciata. Una schienciata. Una schienciata. Come se ne so fanno uno? Una risciuta. No, hai piaciuto, io non ho risciuta. Un martetto. Ma mamma mia, come se si parla con l'ossaretta? No, 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 no. E gira le parole, gira, gira, gira. Gira, 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 gira. No, non hai capito? Porta le parole, porta le parole. Ma come sei la sua mia parola? Ah, gli scoprono tu. E allora che è successo? È successo che è figliato di Massa Francesca. Massa Francesca, figliato? Massa Francesca. Ma cosa stai dicendo? Massa Francesca, figliato, non è possibile. È scravato, Massa Francesca. Non è possibile. Non è possibile. No. È scravato quasi Massa Francesca. Non è possibile. Non fido Massa Francesca. Non è possibile. Sì Massa Francesca. Non è possibile. Oh no, non è possibile. Non è possibile! È scravato da voi, che è una cosa più bella, ma che ho dovuto togliare la domanda, e se li ha scavato proprio una barba e non si ha finito aspetta aspetta, forse ce l'ha finito vuoi dire che la moglie di Mastro Francisco ha scavato? ecco, ha scavato la moglie di Mastro Francisco e io ti avevo detto fin dal po', non capisci mai dire e no, non capisco e allora Mastro Francisco avendo avuto tre venti in tre figli ma sono finito il figlio? tre venti in tre figli ma sono finito il figlio no, no, il figlio è un'ammaggione e c'è un'ammaggione ma non c'è un'ammaggione e c'è un'ammaggione e c'è un'ammaggione ma c'è mamma che c'è e finito il figlio e non c'è un figlio allora Mastro Francisco tutto a me e io mi vado dalla subito nella desazionale per farmi ammigliare e allora e allora è andata mi dispiace per il momento ma mi devo dare una brutta notizia no, ho provato a Mastro Francisco perché io prima che avevo insediato il bar oh ma pavola padre così come trovi delle carte che erano riaccise oh ma pavola padre potenza che tiene mania vicini a non fa sema che ci erano tante decenni ma pavola padre no, no, no ma pavola padre ma il cazzo è tutto rosso eh, eh, ho pace è un'attesa brucia no, no, no che consigli ce l'ha vedi il figlio vedi il figlio vedi il figlio no, no, il figlio delle parole e parole ma pavola ma pavola ma pavola ma pavola e allora non lo capisci non metti a te ma pavola e allora 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 se ci voleva se ci voleva non lo capisci e lui non lo capisci e si riuscire con il suo luco e avere un po' giro e a sé, non gli sapevo che sti piacere niente! e si sa che ce n'ava? Don Zio? no! nessuno ci stava? no, nessuno! sono io! si! allo prima, che te lo vissi da qua e gli dicevo fai fare salto a tutti ogni vestito che va ogni cappotto che va salto due metri, soffi, soffi, soffi l'imprinazione è un po' ma non ci metta che e se tocca al secondo che abbiamo riacciso tu lo mandi a fare in militare i soldati io sono a me ho sparito in una cosa propria e ha la salute del mio amore e vabbè, vabbè, vabbè così molto buono con una buona salute e con la sua soluzione e il bravo non c'è ma ti penso sono è il terzo è il terzo è il più facile perchè è più facile? perchè? ho fatto faggielo fare dottore il mio figlio mi ha preso tutta la quattro vento lui non mi sento da favore sei sette profondo saldito di migliori e non manca bene ma si dice luce e va bene bravo siamo contenti che è sotto questa situazione ma voglio sapere come mai mi hai buttato un caffè non ho provato e va bene perchè tu lo sai che a me piace di dormire ah si? e se è straiato sopra al divano sul sopra no no è al divano è al divano è al divano non lo sai se si sopra o non sopra io stavo sopra al divano è la stessa cosa è la stessa cosa è la stessa cosa e va bene allora stavo straiato da un pacchetto è la stessa cosa che ha riuscito è stato dormire che è la stessa cosa allora ci da me ci è la stessa cosa no no e lui lui e lui lui ma non lo so lo so non lo so e lui era e lui era e lui mi aveva e lui era e lui era e lui ha e lui che era e lui non lo so e lui ha visto non la so vede ma lì che era e lui chi è più Sì! Eh ma la nonna non finisce qua! Ah non ha finito? No, 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 no! E.. eh scoperti in corda con i cuori a quale ha avuto i servizi di piattina e le tasse al nostro mobili Ah stassano i servizi di tasse giapponesi e la pausa e la donna nostra Eh! Eh come ti diciamo. Eh scusate! Le tasse. Giappones, che cos'è? Giapponesi. No no no, gioco! Mi fese! Mi sono raffreddito e non mi sento! Anni va! Anni male! Ah ah ah!